love's in the air trama puntate venerdì 6 agosto 2021 divertita l'idea di occuparsi del piccolo mentre i suoi genitori saranno ad una festa e dopo aver scoperto che si chiama serkan ed propone proprio a volat di darle una mano dopo aver insistito ed aver detto davanti ad emre e a islin che saranno in due a occuparsi del bambino serkan è costretto a passare molto tempo insieme a eda e al neonato prima che la coppia esca però a islin si ferma a parlare con eda e le confessa di avere dei dubbi ed ipotizzare di poter essere di nuovo incinta la iddis manifesta tutta la sua gioia e incoraggia a islin dicendole che sicuramente sarà una bambina serkan sconvolto ascolta tutto il discorso e si convince che sia proprio eda ad aspettare un bambino disperato l'architetto cammina nervosamente per casa e si accorge della presenza di un test di gravidanza che in realtà è di a islin serkan si convince ancora di più che la sua ex fidanzata aspetti un bambino da lui a islin dicendole che si accorge della sua gioia Grazie.